Poi c'è l'altra parte, che è la parte più antica a Siracusa, è il cosiddetto tempietto, dove esiste il luogo dove fu per la prima volta messa, deposto il corpo di Santa Lucia. Poi col tempo è stata costruita questa chiesa, questo piccolo edificio, dove si conservano le scarpette russe di Santa Lucia, perché prima i martiri venivano, quando soprattutto le donne veniva, che soprattutto loro facevano voto di castità e di virginità, per essere, diciamo, prese in giro dalla centuria romana, venivano vestite di rosso, quasi in maniera di disprezzo. Vediamo anche Gesù, che fu vestito come i pazzi, il mantello rosso, la corona di spine e via di seguito. E queste scarpette rosse, manca a farla apposta, richiamano la violenza delle donne tutt'oggi, che infatti è il segno della violenza sulle donne, anche i piccoli monumenti che noi vediamo nei nostri comuni. Una cosa particolare è la base di questo altare, c'è Santa Lucia Morente, la quale trasudò lungo la pestilenza, lì a Siracusa. E poi l'altra cosa che viene conservata è la colonna del martirio. Quindi ha un altro legame con l'inno, perché noi qui in chiesa abbiamo due inni. Abbiamo l'inno del maestro Castellaccio, un lino solenne cantato a due o tre voci, nei primi vespri della festa e nel giorno della Santa, e poi c'è l'inno popolare. E dice così, qual colonna immobile? Perché oltre a richiamare la colonna del martirio, c'è un miracolo durante la vita della Santa, la quale il prefetto Pascasio la voleva mettere a morte. Sappiamo bene che i cristiani venivano messi subito a morte. E volevano portare Lucia in questo lupanare, nel luogo di prostituzione. Si fece così dura, così pesante, ecco, qual colonna immobile, che neanche cento buoi riuscirono a trascinarla in questo luogo malfamato. E alla fine fu decapitato. Infatti notiamo anche nell'ultima fotografia il volto del corpo. Il cardinale Lavitrano riprende, diciamo, anche spunto, oltre per questo momento qui drammatico, per la nostra Monterone, quale, come dicevo prima, incoraggiava i monteronesi del tempo a vivere meglio la fede cattolica, nel stesso tempo ricostruire il Tempio e anche ricostruire la fase, diciamo, civile della zona, posso mettere anche una parte, forse posso dire, personale, familiare. Nello stesso periodo il cardinale Lavitrano scrisse una lettera al superiore del convento di Paola, in Calabria, affinché un figlio di Forio, proprio di Monterone, padre Leonardo Maria Vittorio Esposito, potesse entrare in seminario con una frase molto importante, prendetelo perché non vi pentirete. Infatti, né il popolo di Monterone si è pentito, né i suoi confratelli, perché poi è stata una delle glorie dell'ordine minimo, sia qui in Italia e sia in Spagna. Quindi Santa Lucia prende non solo spunto per la zona locale, ma anche per l'Italia e per il mondo. Quindi le cose vengono collegate l'una dall'altra. Che voto diamo alla preparazione di questo giovane? Dieci e lode, naturalmente. Non possiamo togliere niente. Anche perché posso dire che, non per una pretesa, ma neanche per il voto largo della professoressa, posso dire che mia mamma mi ha partorito qui in questa chiesa, perché posso conoscere tutte le varie pietre che costituiscono questo tempio. Ogni pietra, ogni luogo c'è un ricordo per una persona cara, una persona che forse non c'è più. E tante cose che si sono vissute nel momento della gioventù, dell'infanzia, le prime messe servite, oppure quando stavo lì seduto accanto al parroco vedevo in alto Santa Lucia, quindi una persona quasi intraggiungibile, ma che poi si è dimostrata di essere una sorella nostra, anche conoscendo tutte queste cose che prima forse non si conoscevano né io né altre. Il richiamo agli inni, epoca la grande tradizione canora, che anche in questa chiesa si vive puntualmente. Ogni anno c'è una cantoria che è sempre molto vissuta, non sta lì semplicemente a ricordare i fasti del passato, ancora oggi si vive fuori io a una tradizione musicale di primissimo ordine. Cosa possiamo aggiungere a questo aspetto della nostra vita, la tradizione popolare? Abbiamo fatto riferimento al maestro Castellaccio, ma ce ne sono tanti, Pappagone, alias il maestro Colella, Giacinto Lavitrano, noi facendo il nostro giro, sfogliando altri album dei ricordi, ci rendiamo conto di quanto sia grande questa storia nostra foriana. Sì, la storia di Forio è sempre stata legata alla musica, infatti anche le bande popolari che noi avevamo qui a Forio a volte entravano giocosamente in gara tra di loro proprio per dare lustro ai Santi, per suonare, per accompagnare le festività e anche le processioni. E anche Santa Lucia ha avuto il suo maestro, perché Don Pietro Calise, poi, diciamo, dopo le vicende turbolente della sua esistenza, è diventato anche maestro di musica e quindi ha dato lustro con la sua musica anche alla chiesa di Forio. Quindi l'ha servita Don Pietro Calise sia, diciamo, come prete e sia con l'attività musicale. Diciamo anche il titolo che si dava a questo sacerdote, poi, dice, la cosiddetta banda di Ombrac, quindi, ecco, collegarsi anche al dialetto, che poi è una lingua per noi foriane, soprattutto napoletane. Devo dire che la professoressa è stata equa nell'attribuzione del voto, ma molto generosa in quanto alle gioiose competizioni tra le bande musicali, perché se le tiravano di santa ragione. E quando la banda, diciamo, avversaria suonava in occasioni pubbliche, diciamo, chi stava come spettatore a criticare era tutt'altro che generoso. Diciamo così, diciamo così, è meglio sorvolare. Però anche questo è un aspetto bello della nostra storia, perché, ecco, dimostra l'attaccamento che c'erano le cose che si facevano. C'era questa competizione al far meglio, che sicuramente, ecco, oggi forse se abbiamo anche queste prove artistiche così belle, è dovuto anche probabilmente a questa voglia di emergere, di fare meglio, di fare sempre le cose... Sì, anche perché poi veniva fatta con mezzi, diciamo, non come con quelli che abbiamo oggi, con mezzi alla buona. E quindi la passione era veramente profonda, sentita da questi maestri musicali, che a volte, diciamo, con grandi sacrifici facevano, svolgevano la loro attività. Quindi un merito a loro e speriamo di poter coltivare anche nuovi talenti nell'aforio di oggi. Anche perché questi erano davvero supereroi, spesso riuscivano a far suonare dei semi-analfabeti, contadini, con lo strumento tra le mani riuscivano a realizzare... Diciamo che poi, oltre alla banda, ecco, mettendo anche la tradizione monteronese, non solo cattolica, ma anche folcloristica, noi abbiamo una banda tutta particolare, che è la cosiddetta banda di carnevale. E si collega al fatto anche di Monsignor Capuano, il parroco di San Sebastiano, giù al centro di Forio, diceva che è la banda principale, la banda di carnevale, che scende a Amandrono. Quindi, diciamo, era questo fatto... Tra gli sfottori. Tra gli sfottori, come adesso c'è il classico sfottoforio Panza, anche se Panza ultimamente si sta battendo. Quindi abbiamo avuto questo senso di rivalità, ma buono, genuino, che poi, ecco, uscito fuori, si stringeva di nuovo la mano, eccetera, eravamo di nuovo... Devo dire che io non ho mai sentito, però, i monteronesi andare in imbarazzo per la loro banda di carnevale, anzi... Anche perché noi abbiamo avuto... Ecco, prima richiamavo il Cardinale Avetrano come padre Leonardo Maria Vittorio, ma abbiamo avuto anche Monsignor Carcaterra, frate minore, vescovo e custode del Santo Sepolcro, che adesso riposa finalmente nella nostra Forio, nella chiesa conventuale di San Francesco. Non possiamo dire che abbiamo anche un campo di pallone a cielo aperto, senza barriere, perché noi dobbiamo dimenticare il vissuto di Don Pasquale, qui nella nostra parrocchia. Per aggregare i giovani, aveva inventato la Messa delle Nove, qui al mattino, che prima era celebrata da un altro sacerdote, sembra Don Mario, e poi fuori si giocava a pallone con i giovani che partecipavano a Messa. Ed era un'ora davvero spastosa, immaginate Don Pasquale, giovane, con la cosiddetta sottano, la talare, in gergo italiano, giocare a pallone, nascondere alcune volte anche il pallone sotto la veste talare per non far capitare bisticci tra le due squadre. E si erano costituite anche due squadre, il San Michele e il Santa Lucia. Quindi, oltre a livello storico, religioso, c'è anche la parte goliartica e anche per aggregare i giovani, perché qui, diceva Don Pasquale, quando venne c'era proprio da piangere, perché la povertà incombeva. Il dimenticabile Don Pasquale è stato un farro dal punto di vista religioso, ma davvero ha realizzato tanto anche in termini sociali, in un contesto che aveva bisogno e ha bisogno di figure come la sua. Per fortuna, insomma, mi sembra di poter dire con grande serenità che il testimone è stato affidato in mani sicure. Quindi questa sicuramente è una cosa molto bella che ci rasserina. Non so se vogliamo chiudere passando dalla sacrestia. Sì, chiudiamo. Le ultime due cose che riguardano anche Don Pasquale che va al nostro grazie per tutto ciò che ha fatto per noi. Ma Monterone ha avuto, come dicevo prima, come dicevamo prima, è il luogo dove arrivano tutte le processioni. Abbiamo due dati storici per le processioni. Una è il 26 luglio del 1987. Monterone chiese al canonico Don Michele Romano che l'icona taumaturgica della Madonna di Loreto dopo essere incoronata venisse a Piazza Santa Lucia. Io ero presente, avevo sette anni, vestito con l'abito, diciamo, la tarcisiana, il cosiddetto abito dei Chirichetti. Venne qui in tarda sera, erano le 11 di sera, le 23 di notte, possiamo dire, il 26 luglio del 1987, volle Monterone che la Madonna venisse qui a Monterone. E qui c'è un diritto nell'entrata delle processioni, nel cancello del corte, prima mi sono dimenticato. Le processioni entrano per il cancello piccolino, quasi per dare un ok a Santa Lucia, per dare un permesso a Santa Lucia e riescono per la parte, diciamo, principale. La mia preoccupazione era questa, come fa il trono barca ad entrare in un cancelletto così piccolo? E si fermò nella piazza a distante la chiesa. L'altro, invece, grazie sempre ai monteronesi, ma anche grazie ai due sacerdoti, Don Pasquale e Monsignor Regine, la Madonna della Libera, dopo tanti anni, ritorna qui a Monterone. Quindi, grazie a loro, anche la zona è stata rivissuta da questi eventi storici e sperando che i sacerdoti futuri, anche New Age, moderni, possano riportare queste tradizioni nella nostra Monterone. La tradizione è più forte del New Age, quindi lo possiamo dire con grande serenità. Diciamo, le mode, chi sposa le mode è destinata a diventare presto vedo, diceva Chesterton. quindi le mode sono una cosa bella. Ma per essere vedo aiuta anche, questa è una cosa scherzosa, aiuta anche a conoscere altre persone, quindi a fare, avere una visuale. Sposta poco cattolica, qua gli diamo due. beh! Heheheheh! Fum Graslavia che scrive, è... Allora,